Benvenuti, ben ritrovati. Il telegiornale di oggi si apre con una intervista al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che stamattina ha incontrato i responsabili della società Renexia SPA, che come sapete vuole realizzare un megaparco eolico offshore a largo delle isole Egadi, in pieno canale di Sicilia. La società si dice disponibile ad ascoltare le istanze e le esigenze del territorio. Nel frattempo ieri il sindaco aveva chiesto una proroga di 30 giorni per valutare meglio la progettualità alla Capitaneria di Porto di Trapani. Stamattina è arrivata proprio la nota ufficiale che concede questi 30 giorni. Abbiamo intervistato il primo cittadino di Trapani. Sindaco, arriva la proroga di 30 giorni. Stamattina questo incontro con la Renexia, che voleva costruire un parco eolico offshore a largo delle Egadi, in pieno canale di Sicilia. Arrivano le perplessità, era ovvio che fosse così, e finalmente otteniamo qualche prima timida, mi sento di dire, risposta. Io da sindaco, come gli altri colleghi, devo cercare sempre un equilibrio e contemperare gli interessi. Uno, la difesa del territorio, del mondo della pesca, che già è bistrattato e in crisi, che significa anche prodotto e qualità, valorizzazione della destinazione, occupazione, la filiera. Due, la tutela dell'ambiente, del contesto di destinazione turistica, paesaggistica e ambientale, la tutela dell'avi fauna. Dall'altro non posso non valutare però che di fronte a nuove scelte nel campo della produzione di energia alternativa e ipotesi di investimento che possono interessare il sistema paese e soprattutto la Sicilia, provincia di Trapani, bisogna fare il calcolo dei costi benefici. Dunque, non sottaccio che è un momento di riflessione, di approfondimento e in maniera leale stiamo tenendo dei confronti con la stessa ditta, con la stessa ditta renexia, aperti a tutta la platea dei comuni, del mondo della pesca e flag, e che più ne ha più ne metta come portatori di interesse. Continueremo in questa direzione cercando di arrivare a un punto di equilibrio se c'è una soluzione che tuteli gli interessi di tutti. Diversamente, ognuno ha il dovere di assumere e fare delle scelte. Il sindaco di Trapani, nel rispetto dell'equilibrio generale degli interessi, non si sottrarrà. Stavanti è arrivata una proroga da parte della Capitaneria? Io devo ringraziare i rapporti di collaborazione con la Capitaneria. Ieri abbiamo fatto la richiesta, stamattina già ci è stata concessa, anche perché la Capitaneria si rende conto che gli interessi, come dire, in campo sono notevoli. D'altronde, quando il sindaco di Trapani, a prescindere da Giacomo Trenchiere di Turno, solleva un problema, lo solleva, si ritiene, nell'interesse generale di una città e di un comprensorio, anche a nome degli altri colleghi. Dunque, da questo punto di vista, abbiamo 30 giorni in più di tempo per approfondire l'argomento, che è molto delicato, anche sotto il profilo tecnico e scientifico. Anche l'ordine degli architetti e dei passeggisti della provincia di Trapani, ieri, si è fatto sentire con le proprie valutazioni, proprio su questo mega progetto di un parco eolico offshore. Anche i paesaggisti muovono delle perplessità. Adesso che ci sono altri 30 giorni di tempo e, da quello che afferma il sindaco, la disponibilità della società a sedersi e a ragionare meglio sulla fattibilità, soprattutto sull'impatto ambientale di questo progetto, probabilmente si troverà una via di mezzo per accontentare sia le esigenze imprenditoriali che quelle delle energie alternative rinnovabili e anche le esigenze del comparto economico pesca e turismo, che ruota attorno a quella zona di Canale di Sicilia. Questa era la notizia del giorno e il resto delle informazioni tra poco. I titoli di oggi, forestali, incognite sui finanziamenti, si ripete il copione. Oltre 17 mila forestali a ridosso dell'inizio della primavera non hanno ancora notizie dei piani di rimboschimento e anti-incendio. Il Belice contro la ridimensione monta la protesta contro il piano di riorganizzazione sanitaria che vedrebbe la riduzione dei posti letto e reparti nell'ospedale di Castelvetrano. E' il turno dei disabili gravissimi. La regione siciliana dà la priorità di vaccinazione anti-covid alle fasce più fragili, forse più degli ultraottantenni. E poi ancora il patto per la lettura, sottoscritto un documento fra l'amministrazione comunale di Trapani e diverse realtà del territorio per incentivare la lettura in città. Sport, la settimana del derby, la pallacanestro Trapani inizia la preparazione alla gara di Capodorlando. E' una sfida importante per le sorti del campionato di serie A2. E poi il nostro Mario Torrente nell'approfondimento ci porta a scoprire i segreti del crocifisso miracoloso. Un tuffo nella storia per raccontare il simulacro custodito nella chiesa di San Domenico a Trapani. Ma intanto apriamo con la solita storia di ogni anno, diciamo, pressoché la regione siciliana predispone 100 milioni di euro per i forestali. Però ne servirebbero almeno il tripo. Vediamo. I lavoratori forestali siciliani puntualmente devono soffrire e subire i ritardi del governo regionale di qualunque colore politico esso sia. Dunque, anche in questo 2021, si ripropongono questioni antiche. Le indiscrezioni annunciano tagli, pochi fondi e speranze ridotte al lumicino che tutti i 17 mila forestali siciliani possano lavorare per le giornate loro spettanti. Un problema che, sembra, nessuno vuole risolvere con una classe politica che non è in grado di gestire il settore al massimo delle sue potenzialità. Annualmente servono per gestire gli interventi forestali, dall'antincendio alla manutenzione boschiva, circa 320 milioni di euro. Ed ogni anno, a fronte di una dotazione ridotta, la regione, uffici, assessorati e assemblea regionale, affrontano l'arrampicata sugli specchi del recupero di fondi da altri settori e dalle immancabili variazioni di bilancio. Dunque, si chiedono i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori del comparto, perché non cercare di uscire dalla perenne impasse e mettere in atto una programmazione stabile ed evitare tutto questo teatrino? Va ricordato che, nonostante la diffidenza dell'opinione pubblica che guarda la gestione dei forestali come uno spreco, si tratta di lavoratori impegnati in opere essenziali, quali la manutenzione e la prevenzione incendi. In questo 2021, la regione ha deciso di destinare 132 milioni per la riforma dei consorsi di bonifica e di altri enti e la riforma dei forestali, che verranno da fondi extra-regionali. In pratica, soldi dello Stato e dell'Unione Europea, sui quali però, in assenza di progetti, siamo a marzo e ancora non ve ne traccia, la stessa Unione potrebbe fare calare la mannaia in assenza di spiegazioni chiare e puntuali. Il ritardo dei progetti, il solito, mancano i tecnici a disposizione, nonostante la pletora di dipendenti della regione. Andiamo a Castelvetrano, dove da due anni il Comitato Orgoglio Castelvetranese-Belucino si batte per evitare il ridimensionamento dell'ospedale di Castelvetrano. In segno di protesta vengono raccolte e riconsegnate le schede elettorali. Vediamo. Il no netto contro il ridimensionamento dei reparti dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano e il suo conseguente declassamento si arricchisce di un altro capitolo della protesta popolare. Stamani, dinanzi all'ingresso del nostro comio, è tornato il gazzibo del Comitato Orgoglio Castelvetranese-Belicino e del coordinamento delle associazioni del Belice. I rappresentanti dei due organismi spontanei hanno incontrato una delegazione dell'associazione La Scatola del Tempo, che opera nel campo dei pazienti oncologici. L'associazione ha consegnato numerose altre schede elettorali che si aggiungono a quelle che, in questi mesi, sono state raccolte dal Comitato e dal coordinamento, come forma di protesta civica contro il ventilato ridimensionamento dei servizi offerti dall'ospedale. Il piano dell'assessorato regionale alla salute prevede per l'ospedale di Castelvetrano il trasferimento di alcuni reparti, la riduzione di posti letto e la trasformazione di nove unità da unità operative complesse a unità operative semplici. In particolare, a essere trasferiti saranno i reparti di terapia intensiva, di rianimazione, di oncologia, di anatomia patologica, di estetricia e ginecologia, di pediatria, di farmacia ospedaliera, oltre alla direzione sanitaria, mentre altre unità come chirurgia generale, diventeranno da complesse a semplici. Nei fatti, un depauperamento dell'offerta di assistenza sanitaria per tutto il comprensorio del Belice, un bacino di oltre 100.000 abitanti. Nei mesi scorsi, anche la CGL ha preso opposizione contro questa previsione e della questione è stato anche investito il prefetto di Trabani, Tommaso Ricciardi, perché si facesse interprete presso l'assessore Ruggero Razza delle preoccupanti ricadute che il riordino della rete ospedaliera avrà sul territorio belicino. Andiamo a Derice, parliamo del Consiglio Comunale. Nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea Derice si è proceduto alla surroga di Carmela Daedone che da consigliere comunale si è dimessa, rimanendo solo come assessore nella giunta guidata dalla sindaca Daniela Toscano e al suo posto in Consiglio Comunale è entrato Ruggero Messina che appunto ha preso il suo posto nel Consesso Civico. Il neoconsigliere Messina ha prestato il giuramento quindi formalmente è entrato a far parte del Consiglio Comunale di Erice. A proposito di Consigli Comunali, sia di Erice che di Trapani, stamattina o meglio ieri sera i due presidenti dei Consigli Comunali di Trapani, Giuseppe Guaiana e di Erice Luigi Nacci hanno accolto la richiesta di un incontro da parte del Comitato per la Grande Città e anche da parte del movimento diventerà bellissima la sezione di Trapani per spiegare le progettualità e gli intendimenti che vedrebbero nuovamente ragionare sulla necessità di formare un comune unico fra Trapani e Erice o comunque rettificare i confini o comunque ancora allargare il ragionamento su progettualità più ampie. Abbiamo intervistato il presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana. Presidente Guaiana avete dato seguito alla richiesta di incontro da parte del Comitato per la Grande Città e anche della parte politica diventerà bellissima che vi ha inoltrato ufficialmente una richiesta. Sì, abbiamo dato riscontro a queste due note presentate dal Comitato e dal Circo che diventerà bellissima il giorno 9 di marzo alle ore 10 ci sarà un incontro a Palazzo Cavarretta insieme al presidente del Consiglio Comunale di Erice Luigi Nacci. Abbiamo deciso di incontrare assieme le parti per capire un attimino quali sono le iniziative e soprattutto confrontarci in merito a questa tematica e naturalmente a seguire allargare il tavolo eventualmente alla conferenza dei capigruppo. Certo, c'è un sentimento che sembra crescere. Il sentimento sembra crescere senza dubbio. Dobbiamo considerare anche che le iniziative proposte sono, come dire, di diverso genere quindi bisognerà capire quali sono le progettualità da portare avanti perché è chiaro che dobbiamo uscire con eventualmente un progetto condiviso e con numeri da mostrare alla cittadinanza. L'argomento senza dubbio è molto interessante. Oggi più che mai, a seguito anche della scissione del territorio di Misiriscemi, nei trapanesi notiamo, come dire, una voglia in più di parlare di questo argomento e perché no aprire il tavolo del confronto. La politica oggi deve servire come strumento per interpretare il pensiero della cittadinanza e successivamente far esprimere la cittadinanza stessa. Questa parte del Tg finisce qui ma abbiamo altro di cui informarvi tra poco. In questa parte di Tg parleremo della vaccinazione per i disabili gravissimi ma vi racconteremo anche attraverso le parole dell'assessore Dalì di Trapani il patto per la lettura stipulato ieri e poi ovviamente spazio allo sport con la settimana del derby per quanto riguarda la pallacanestro Trapani. Intanto andiamo a vedere appunto questa campagna vaccinale che ha preso il via. Si tratta della campagna anti-covid ovviamente per i disabili gravissimi. La Sicilia è tra le prime quattro regioni italiane ad avviare la campagna vaccinale anti-covid in favore dei disabili gravissimi. Con una direttiva dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza inviata ai direttori delle ASP siciliane viene infatti stabilito che a beneficiarne da subito saranno tutti i cittadini che ricevono già l'assegno di cura del fondo di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana numero 589 del 31 agosto 2018. Si tratta di circa 11.000 persone che risultano iscritte negli elenchi speciali in quanto affette da patologie gravissime e che hanno sottoscritto il patto di cura. Pertanto non sarà necessaria la prenotazione tramite piattaforma digitale o call center. Sarà infatti compito delle singole aziende sanitarie provinciali contattare gli utenti e stabilire poi criteri di vaccinazione. Il provvedimento assessoriale raccomanda l'incentivazione della somministrazione domiciliare e l'uso del vaccino Moderna indicato per i soggetti più fragili. Intanto complessivamente sono oltre 350.000 le dosi inoculate in Sicilia dall'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid. Solo ieri ne sono state somministrate poco meno di 13.000. Veniamo a questo patto per la lettura, una nuova iniziativa pensata e portata avanti dall'assessore alle politiche culturali del Comune di Trapani, Rosaria Dali. Ovviamente ha trovato l'avallo dell'amministrazione e non solo, anche da parte di associazioni, di organizzazioni no profit e soprattutto degli enti pubblici e culturali del territorio trapanese. Ce lo facciamo raccontare direttamente da lei. È un'iniziativa a cui tenevamo molto. Già l'anno scorso, quando abbiamo concorso per il titolo di Città che legge, il MIBACT ci ha riconosciuto questo titolo, avevamo preso l'impegno di creare un patto per la lettura della città di Trapani, ovvero un coinvolgimento delle realtà istituzionali, culturali, sociali, tutte quelle che si occupano di cultura e che individuano nella lettura sicuramente una risorsa strategica, perché a nostro avviso il diritto di leggere è un fondamento per tutti i cittadini da promuovere, divulgare e sicuramente accrescere. E allora abbiamo iniziato con la biblioteca fardegliana, con la dottoressa Giacalone, la direttrice, a lavorare su questo patto e proprio oggi in Sala Sodano abbiamo sottoscritto questo accordo. Siamo in 22 soggetti tra scuole, biblioteche, ma anche il privato aderito e quindi abbiamo delle case editrici, delle librerie, perché noi crediamo molto nell'alleanza tra pubblico e privato nell'avviare delle iniziative di promozione alla lettura. Oggi il sindaco si è anche impegnato a mettere a disposizione delle sedi anche per promuovere la lettura, presentare iniziative letterarie. Si è parlato di Sala Perrera che è già pronta, della Casina delle Palme, il cui diciamo che sarà pronta a fine primavera, ma la stessa Sala Sodano di Palazzo Dalì, la biblioteca fardegliana, luoghi che noi già apriamo al pubblico per iniziative, ma le abbiamo arricchite ulteriormente e le vogliamo ulteriormente sfruttate. A noi a breve partirà anche questo progetto di book sharing e metteremo delle edicolette, diciamo delle piccole biblioteche sparse per la città, per arrivare là dove magari il libro non è così accessibile, magari nelle periferie, alcuni quartieri che non hanno una biblioteca vicina di zona. Siamo in piena quaresima e il Vescovo della Diocesi di Travani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, come da martedì scorso, anche oggi che è martedì, incontra i fedeli in questi martedì della speranza. Vediamo di che si tratta. Cari amici, in un mondo senza confini, globalizzato, la nuova frontiera, la frontiera dell'umanità è la fratellanza, ci dice Papa Francesco nella sua terza enciclica dal titolo Fratelli tutti. Come Diocesi desideriamo darci un appuntamento con i martedì della speranza, proprio nella sede dell'arco della speranza. Approfondiremo insieme i vari capitoli della enciclica del Papa. Siamo convinti che l'orizzonte che egli ci invita a percorrere è un orizzonte che ci fa del bene anche qui al nostro livello locale. Per questo sia la Diocesi, come tutti quelli che vorranno unirsi a noi, troveremo veramente un arricchimento nella conoscenza di questo documento e anche nell'impegno a tradurlo in gesti concreti, anche piccoli, perché la fratellanza si costruisce giorno per giorno nelle relazioni tra di noi e nello sguardo rivolto all'Altissimo, per i cristiani rivolto al Dio, Padre di nostro Signore Gesù Cristo, che tutti ci affratella con il dono del suo spirito. Il martedì per Telesudio invece, per quanto riguarda gli appuntamenti in televisione dedicato allo sport, questa sera alle 20.30 e a mezzanotte e mezza trasmetteremo l'incontro di calcio fra il Dattilo e il Paternò, invece alle 23 l'incontro di Palamano femminile di Serie A fra la Handball, Erice e Mestrino. Vi lascio adesso al medio e poi allo sport. Per oggi pomeriggio è previsto cielo poco nuvoloso con vento da nord-est e mare quasi calmo. Le temperature rimarranno stabili sui 16 gradi. In serata ha previsto cielo poco nuvoloso con vento da est e nord-est. Il mare sarà quasi calmo e le temperature saranno comprese fra i 12 e i 13 gradi. Per domani mattina ha previsto cielo sereno e mare poco mosso con vento da sud-est. Le temperature saranno comprese fra i 14 e i 16 gradi. Per domani pomeriggio è previsto ancora cielo poco nuvoloso con vento da nord-est e mare poco mosso. Le temperature saranno comprese fra i 13 e i 16 gradi. Ci occupiamo di basket in questo spazio dedicato allo sport. Parliamo della Pallacanestro Trapani che inizia la preparazione in vista della gara di Capo d'Orlando. Una sfida importante per le sorti del campionato di Serie A2. Ritorno in palestra al Palaconad per la Pallacanestro Trapani dopo il successo al fotofinish contro Biella. Per la formazione Granata adesso inizia un periodo intenso. Quella iniziata è l'ultima settimana nel corso della quale i Granata prepareranno la prossima gara avendo sette giorni di tempo a disposizione. Domenica infatti la 2B contro il Trapani sarà sul parquet di Capo d'Orlando per l'importante derby che può essere determinante in vista della fase finale della stagione regolare. Un match cui farà seguito un intervallo dove la forma fisica sarà decisiva. In 24 giorni la squadra di coach Daniele Parente giocherà 8 partite. In buona sostanza dopo il derby ci sarà un turno infrasettimanale fino a quello conclusivo di venerdì 2 aprile contro Milano. 8 gare separano la Pallacanestro Trapani alla conclusione della stagione regolare, un'annata certamente assai complessa. La squadra trapanese sta cercando di risollevarsi dopo il cattivo avvio. Le quattro vittorie nelle ultime cinque partite sono dimostrazione che il lavoro settimanale sta dando i suoi frutti. La strada è stata tracciata. La 2B contro il Trapani adesso ha il compito di percorrerla a partire dal derby di domenica contro Capo d'Orlando. Sono tutto importante, è una partita che potrebbe essere classificata sulla falsa riga di questa, con una squadra che ama andare ai 100 punti. Ne ha fatti 90-100, due americani di talento che segnano più di 25 punti. Gli italiani solidi si conoscono, quindi sarà una partita molto stimolante dal punto di vista difensivo. Se non andiamo pronti a competere con loro sotto il profilo dell'energia e dell'attenzione non abbiamo una chance. Se andiamo concentrati cercheremo di provare a vincere. Mario Torrente oggi per questo approfondimento ci va a fare un tuffo nella storia e ci parla del crocifisso miracoloso custodito nella chiesa di San Domenico nel punto più alto del centro storico di Trapani. Secondo la leggenda il crocifisso miracoloso custodito nella chiesa di San Domenico sarebbe stato scolpito da San Nicodemo, il discepolo che assieme a Giuseppe d'Arimatea seppellì il corpo di Cristo. Sono tante le storie che si narrano su questo antichissimo crocifisso secondo la tradizione arrivato a Trapani nel 1200 dalla Palestina con i padri domenicani. Al suo interno sotto il costato si narra di una reliquia della passione di Cristo che sarebbe conservata proprio in una fessura ricavata nel legno. Quando venne esposto a Torino assieme alla Sindone, grazie alle moderne tecnologie e venne individuata una cavità all'altezza dell'addome, proprio come si tramanda da secoli. Il crocifisso miracoloso custodisce tanti segreti e secoli di storia che dall'Oriente, forse proprio dalla Terra Santa, lo hanno portato a Trapani nel periodo in cui la città era crocevia di crociati. Non a caso nella chiesa di San Domenico c'è una cappella, la Cappella dei Crociati, con una finestra orientata verso Gerusalemme. In questa antichissima chiesa, costruita nel punto più alto di Trapani, sono sepolti i sovrani di Navarra, Teobaldo e Isabella, oltre che il figlio di Re Federico II, il piccolo Manfredi, morto in città dopo essere caduto da cavallo nel novembre del 1317. Aveva 11 anni. Il sarcofago, dove da 700 anni ripose il bambino, si trova nella parte destra dell'altare centrale. Insomma, qui c'è davvero tanta storia vera da raccontare e scoprire, anche per gli stessi trapanesi che dovrebbero essere più consapevoli del grande patrimonio culturale della città in cui sono nati. Anticamente, nei momenti difficili, i loro antenati andavano a chiedere aiuto proprio a quel crocifisso in legno che raffigura il Cristo già morto, ma che da sempre è immagine di speranza e vita. In caso di pestilenza o carestia, il crocifisso veniva infatti portato in processione per le vie della città e accadeva che la pestilenza andava via come avvenuto nel 1524 quando si narra che cominciò a sanguinare dal costato. O che, inaspettatamente, arrivava il frumento come durante la carestia del 1672 che in Sicilia uccise centomila persone. Ma a Trapani, mentre che il crocifisso era in processione, entrarono in porto due navi cariche di frumento che sfamarono la popolazione ormai allo stremo. Qualche decennio prima, nel 1624, accadde pure che una donna cieca acquistò la vista dopo essersi passata negli occhi un fazzoletto unto con l'olio che alimentava la lampada del simulacro. Ma l'episodio più famoso, quello per cui è conosciuto come crocifisso miracoloso, è quello del bambino Rocco. Era il 1641. Questa vicenda venne attestata da un notaio e dal vescovo di Mazzara. Allora la diocesi di Trapani non esisteva. Il racconto narra di un bambino, con i morsi della fame nello stomaco, che chiese del pane a sua madre. La donna, non avendo cosa dargli per sfamarlo, gli disse di andare a chiedere del pane al crocifisso che stava nella chiesa di San Domenico. E così fece il piccolo Rocco, che dopo essersi inginocchiato in preghiera, ricevette il pane proprio dalla mano di Gesù. Tornato a casa e mostrato quel pane morbido e profumato alla madre in città, si sparse subito la voce di quel prodigio. Ed una volta entrati a San Domenico, le persone accorse in chiesa, si accorsero che il braccio destro di Gesù era schiodato dalla croce con la mano rivolta verso il basso e si gridò al miracolo. Da allora il crocifisso rimase con l'appellativo di miracoloso. C'è una novità in questa parte di TG. I carabinieri di Alcamo hanno arrestato un uomo di 45 anni per detenzione di droga. In casa aveva allestito una serra fai da te per la marijuana. Vediamo. Fermato in pieno centro, un uomo di 45 anni, originario di Palermo ma residente ad Alcamo, è finito in manette dopo una perquisizione domiciliare con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo è incappato in un posto di controllo del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia di Palermo. Noto agli operatori che lo hanno fermato e con precedenti per reati di droga, è apparso particolarmente nervoso, atteggiamento che ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione. In casa il 45enne teneva 13 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché l'occorrente per una serra fai da te, vasi con terriccio fertilizzanti e una lampada a raggi ultravioletti, tutto materiale utile per la produzione improprio dello stupefacente. Dichiarato in arresto è stato posto ai domiciliari. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del 45enne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Alcamo. L'abbiamo data come notizia del giorno alle 13.45, per chi si fosse messo adesso a guardare il nostro telegiornale, ve la riproponiamo, l'intervista al sindaco di Trapani, Giaomo Tranchida, che si sofferma sull'incontro di stamattina con la Renexia SPA, la ditta che vuole realizzare un parco eolico offshore a largo delle Egadi. Intanto la Capitaneria di Porto di Trapani ha concesso altri 30 giorni di proroga per valutare la progettualità. Sindaco, arriva la proroga di 30 giorni. Stamattina questo incontro con la Renexia, che vuole costruire un parco eolico offshore a largo delle Egadi in pieno canale di Sicilia. Beh, arrivano le perplessità, era ovvio che fosse così, e finalmente otteniamo qualche prima timida, mi sento di dire, risposta. Ma io da sindaco, come gli altri colleghi, devo cercare sempre un equilibrio e contemperare gli interessi. Uno, la difesa del territorio, del mondo della pesca, che già è bistrattato, è in crisi, che significa anche prodotto e qualità, valorizzazione della destinazione, occupazione, la filiera. Due, la tutela dell'ambiente, del contesto di destinazione turistica, paesaggistica e ambientale, la tutela dell'avi fauna. Dall'altro non posso non valutare, però, che di fronte a nuove scelte nel campo della produzione di energia alternativa e ipotesi di investimento che possono interessare il sistema paese e soprattutto la Sicilia, la provincia dei Trapani, bisogna fare il calcolo dei costi benefici. Dunque, non sottaccio che è un momento di riflessione, di approfondimento e in maniera leale stiamo tenendo dei confronti con la stessa ditta, con la stessa ditta renexia, aperti a tutta la platea dei comuni, del mondo della pesca, e flag, e che più ne ha più ne metta, come portatori di interesse. Continueremo in questa direzione cercando di arrivare a un punto di equilibrio se c'è una soluzione che tuteli gli interessi di tutti. Diversamente, ognuno ha il dovere di assumere e fare delle scelte. Il sindaco di Trapani, nel rispetto dell'equilibrio generale degli interessi, non si sottrarrà. Stavanti è arrivata una proroga da parte della Capitaneria? Io devo ringraziare i rapporti di collaborazione con la Capitaneria. Ieri abbiamo fatto la richiesta, stamattina già ci è stata concessa, anche perché la Capitaneria si rende conto che gli interessi, come dire, in campo sono notevoli. D'altronde, quando il sindaco di Trapani, a prescindere da Giacomo Trenchieta di Turno, solleva un problema, lo solleva, si ritiene, nell'interesse generale di una città e di un comprensorio, anche a nome degli altri colleghi. Dunque, da questo punto di vista, abbiamo 30 giorni in più di tempo per approfondire l'argomento, che è molto delicato, anche sotto il profilo tecnico e scientifico. Vi lascio invece adesso a questo servizio sulle esigenze dei forestali in Sicilia. I lavoratori forestali siciliani puntualmente devono soffrire e subire i ritardi del governo regionale, di qualunque colore politico esso sia. Dunque, anche in questo 2021, si ripropongono questioni antiche. Le indiscrezioni annunciano tagli, pochi fondi e speranze ridotte al lumicino che tutti i 17.000 forestali siciliani possano lavorare per le giornate loro spettanti. Un problema che, sembra, nessuno vuole risolvere con una classe politica che non è in grado di gestire il settore al massimo delle sue potenzialità. Annualmente servono per gestire gli interventi forestali, dall'antincendio alla manutenzione boschiva, circa 320 milioni di euro. Ed ogni anno, a fronte di una dotazione ridotta, la Regione, uffici, assessorati e assemblea regionale, affrontano l'arrampicata sugli specchi del recupero di fondi da altri settori e dalle immancabili variazioni di bilancio. Dunque, si chiedono i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori del comparto, perché non cercare di uscire dalla perenne impasse e mettere in atto una programmazione stabile ed evitare tutto questo teatrino? Va ricordato che, nonostante la diffidenza dell'opinione pubblica che guarda la gestione dei forestali come uno spreco, si tratta di lavoratori impegnati in opere essenziali, quali la manutenzione e la prevenzione incendi. In questo 2021 la Regione ha deciso di destinare 132 milioni per la riforma dei consorsi di bonifica e di altri enti e la riforma dei forestali, che verranno da fondi extra-regionali. In pratica, soldi dello Stato e dell'Unione Europea sui quali, però, in assenza di progetti, siamo a marzo e ancora non ve ne traccia, la stessa Unione potrebbe fare calare la mannaia in assenza di spiegazioni chiare e puntuali. Il ritardo dei progetti? Il solito. Mancano i tecnici a disposizione, nonostante la pletora di dipendenti della Regione.